Eccoci, siamo in via Manuzzo, San Fruttuoso. Ci troviamo nell'ingresso di questo ampio 5 vani che è stato appena ultimato come lavori di ristrutturazione. Sono stati infatti eseguiti lavori di ristrutturazione. Ci siamo portati nella zona cucina, una cucina molto ampia che è stata attrezzata con una cucina nuova di marca, molto bella. I piani sono in marmo. Abbiamo la porta a finestra che affaccia su un'ampia balconata sulla quale affaccia anche la zona giorno. L'appartamento è molto luminoso, molto silenzioso perché non affaccia su via Manuzzo. Siamo a un piano alto perché siamo a un sesto piano. Ecco, rientriamo in cucina. Ci portiamo nella zona giorno. Le pareti sono state tutte dipinte in un color beige tortora molto chiaro, molto attuale. pavimenti molto belli, belle dimensioni come possiamo vedere. E anche qui gli infissi sono nuovi e anche qui ci affacciamo sulla balconata che abbiamo appena visto. Alla nostra sinistra troviamo il bagno, bagno con doccia, sanitari sospesi, bagno con finestra, tutto nuovo anche qua. Ricapitolando. Ricapitolando quindi zona giorno, bagno, ampia cucina, dotata tra l'altro appunto di una cucina completa assolutamente nuova, ingresso, camera da letto. O volendo viceversa può diventare questa la zona giorno e in fondo la camera da letto ovviamente. Anche questo vano ha delle belle dimensioni, dei bei pavimenti, infissi nuovi e una bella vista aperta. Appartamento comodissimo perché siamo appunto in via Manuzio quindi abbiamo supermercato, negozi, fermata dell'autobus, tutti sotto casa però abbiamo il vantaggio di affacciare sulla strada posteriore quindi assolutamente non trafficata e molto tranquilla. Il condominio dispone anche di posti autocondominali non assegnati e qui possiamo concludere la nostra visita.